Ciao a tutti, oggi parlo in italiano perché volevo ringraziare tutti quanti, quelli che hanno continuato a seguirmi ho cambiato la maniera di fare video perché mi hanno stancato un po' le cover perché mi prendeva un sacco di ore, tipo per registrare quella di Dead Kennedys ci ho messo tipo 10 ore un'altra, quella di Benny Hill, ci ho messo 350 registrazioni quindi le cover le ho lasciate perché sono troppo impegnative e quindi preferisco continuare a caricare video in questo canale per quando mi alleno perché mi piacciono gli arti marziali, sono un istruttore e poi video con Debbie che è la mia donna faremo anche qualcosa di cucina, viaggi, non lo so questa nuova avventura che ho con Debbie quindi vi ringrazio, continuate a seguirmi ciao